Gianna Nannini è una cantautrice italiana. Oltre al successo discografico, ha vinto numerosi premi musicali tra cui, nel 2018, il premio Lunezia Rock d'autore per la qualità musico-letteraria delle sue opere. Un grave lutto ha colpito Gianna Nannini. La cantante ha perso sua mamma, la signora Giovanna Cellesi Nannini, che ha lasciato questa vita all'età di 91 anni, ricoverata da tempo all'ospedalino di comunità. Mamma Giovanna ha smesso di soffrire e ha lasciato la figlia Gianna, e i figli Guido e Alessandro, fratelli della cantante. Nel mondo della musica è la settimana dei lutti. Dopo la perdita di Gianluca Grignani, Diagio Antonacci, ha comunicato di aver perso suo padre, e l'ha salutato via Facebook con una profonda lettera di ringraziamento. A loro, nella giornata di oggi si è aggiunto il lutto di Gianna Nannini che ha perso Giovanna, sua madre e sua prima fan.